Avete mai letto la parola WOC? La parola che spesso e volentieri ultimamente viene associata ai vari film Marvel e non solo, anche ai prodotti della Hollywood più classica che stanno uscendo recentemente. Ma che cos'è la cultura WOC? Che in realtà è un'ideologia, letteralmente vorrebbe dire sveglio, ma sta prendendo diversi significati nel corso degli anni. WOC vorrebbe dire stare allerta, stare svegli nei confronti di alcune ingiustizie sociali e razziali che sicuramente hanno coinvolto il tessuto, diciamocelo, soprattutto americano, soprattutto degli Stati Uniti d'America e questo è indiscutibile. Ovviamente col tempo, soprattutto quando una parola diventa cultura nell'internet, inizia a prendere diversi significati, diversi significati che vanno a significare una cosa in particolare. Ovvero che adesso per molte persone il WOC è inserire personaggi femminili o di altri generi o di alcune minoranze all'interno dei film. E la cultura WOC viene presa come caprio e spiatoro principale per quanto riguarda i prodotti della Marvel. Secondo moltissimi, l'MCU sta fallendo, sta avendo delle grandissime vatoste, soprattutto negli ultimi anni, proprio grazie alla cultura WOC. Diciamoci la verità. Io sono di un'altra idea. Credo che questa sia una lettura molto semplificata, mentre invece i problemi dell'MCU sono molto più radicati e sono un po' diversi e si portano avanti dal 2019. E non hanno niente a che fare con questa ideologia che spesso e volentieri viene tirata in causa da moltissime persone, anche quando non c'entra assolutamente niente. Però è indiscutibile che effettivamente l'MCU in questo momento qui stia avendo dei problemi, dei grossi problemi. E The Marvels credo sia proprio il simbolo di tutti questi problemi. Quindi oggi vorrei proprio analizzare nel dettaglio i problemi dell'MCU, da dove sono nati e perché continuano a persistere. Ragazzi, bentornati su Red Comics. Io sono Marra. Questo è un nuovo video, appunto. Un video di opinioni, quindi come al solito vi chiedo le vostre opinioni sotto nei commenti. Mi raccomando, scrivete, dateci la vostra opinione e io direi che possiamo cominciare. Credo che tutto parta da Endgame. Io credo che tutto parta dal 2019. La punta di diamante dell'MCU è l'origine di tutti i suoi problemi. Si sembra strano, ma per me è così. E adesso ci arrivo piano piano, non vi preoccupate. Ora, immaginate di essere la Disney. Magari direte voi. Anch'io direi magari, effettivamente. Avete appena droppato la pietra miliare del vostro franchise più importante dell'ultimo secolo, ovvero l'MCU. E quest'ultima pietra miliare, ovviamente, è Endgame. Il film più visto della storia, che poi verrà superato nuovamente da Avatar, ma uno shock culturale pazzesco. Tutti vanno in sala per vedere Endgame, nessuno spoiler al film, si è creato una sorta di patto religioso intorno a questo film qua, e la Disney era oggettivamente più potente che mai. Il franchise dell'MCU era più potente che mai. Ecco che quindi nasce il primo grande errore della storia dell'MCU. L'MCU, da quel momento in poi, pecca di superbia. Nonostante le varie fasi della Marvel siano sempre state annunciate con molta cautela, e cambiando, annullando progetti, e soprattutto trasformandoli nel corso del tempo, che cosa succede negli piani alti dell'MCU, e soprattutto che cosa viene annunciato a noi come pubblico? Vengono annunciati tantissimi titoli. Le fasi successive, dopo ovviamente il titolo di Avengers Endgame, sono riempite totalmente di un sacco di titoli. Ovviamente questa cosa deriva dal fatto che molti titoli provengono non solo dai film, ma anche dall'introduzione delle serie TV. Tantissimi titoli, tantissimi titoli che poi, se vai a vedere nel dettaglio, sono titoli assolutamente non richiesti. Non perché il pubblico comanda e quindi il pubblico se richiede qualcosa deve avvenire per forza, ma perché, semplicemente, siamo andati a vedere dei titoli totalmente vuoti. Un sacco di titoli dell'MCU, e quando parlo di titoli, uso questo termine proprio per riferirmi contemporaneamente ai film e alle serie TV, sono completamente vuoti. Sono dei titoli che voi vi ricordate, e anche io mi ricordo, non tanto per quello che succede, ma per quello che succede alla fine. Quindi sono dei titoli che non servono a creare una nuova storyline, a creare qualcosa di veramente interessante all'interno del titolo stesso, ma solo a creare il mega reveal finale, che può essere anche un cameo o qualcosa del genere, che può poi portare a un film successivo. Ma il titolo originale, il titolo, quindi quello che succede nel mezzo, non se lo ricorda nessuno. Ecco, questa cosa succede perché quando vai a creare tanti titoli di fila, e giustamente era giusto crearne tanti perché il franchise doveva essere ricostruito dal zero, visto che praticamente tutti i big stavano iniziando a scomparire, andando a cercare di riempire di titoli questa fase, queste nuove fasi, ecco che si vanno a tirare in mezzo dei personaggi quasi inutili, oserei dire. Personaggi che fino a qualche anno fa, qualche anno fa intendo le prime fasi, non si sarebbero meritati comunque un titolo stand alone, ma sarebbero dei personaggi che avrebbero funzionato tranquillamente come sidekick, o come aiutanti del vero e proprio protagonista. Ci si è concentrato tantissimo in questa fase a dei personaggi che effettivamente non sono in grado per caratura e per importanza a portare avanti un film da soli. Effettivamente i personaggi continuano a essere estremamente importanti nell'MCU. Guarda caso, i progetti che sono usciti meglio e che soprattutto vengono ricordati di più in assoluto sono i progetti legati ai grandi personaggi. Ovviamente, citiamo per esempio Spider-Man, citiamo VandaVision, citiamo Doctor Strange, questi sono progetti che sicuramente hanno impattato un po' di più rispetto agli altri. Perché? Perché sono personaggi importanti. E anche nelle new entry, effettivamente, quello che ha impattato di più, forse, è proprio Moon Knight. Perché? Perché stiamo parlando di un personaggio che è impattante e che ha senso di esistere. Non è un personaggio che fino a un anno fa sarebbe stato semplicemente un sidekick a cui è stata donata una serie. Ecco quindi che queste serie, questi film, si riempiono di personaggi inutili. Giusto per fare numero, giusto per riempire la timeline delle fasi. Ecco, uno degli esempi più lampanti in assoluto, secondo me, torna a essere The Marvels. Non tanto perché in questo film i protagonisti non sono assolutamente dei personaggi utili, ovvero le tre protagoniste. Io non credo che questo film non sia andato bene perché le tre protagoniste siano delle donne. Assolutamente. Ma quello che vi chiedo è, il villain di quel film lì, voi ve lo ricordate già adesso? O ve lo ricorderete tra qualche anno? La storyline interna di The Marvels è esattamente quello che stavamo descrivendo prima. Cioè sono prodotti creati non tanto per rendere la giornata di chi lo guarda migliore, ma semplicemente per creare un foreshadow di quello che arriverà dopo. Difatti The Marvels nessuno se lo ricorda per la storia. Nessuno. Nessuno è andato a commentare la storia centrale. Perché? Perché non c'è ciccia, perché non c'è niente di interessante. Ma ciò che si va a commentare di The Marvels, che cos'è? È la scena post-credit, ora, senza fare spoiler logicamente, perché in questo video cerco di non fare spoiler, però è questo il funzionamento. E per quanto riguarda The Marvels, in realtà, molti altri titoli sono così. Nel 2019, in poche parole, nasce tutto. La Marvel inizia a peccare di superbia, perché semplicemente inizia ad annunciare dei titoli che era convinta fossero, andassero bene in futuro, ovviamente, essendo che c'è stato un successo pazzesco per il loro ultimo titolo, per il loro titolo principale, che era appunto Endgame, per poi scontrarsi con la realtà. Che comunque, alla fine, ciò che viene premiato all'interno di un franchise è come viene gestito il personaggio. E non tanto che sia un personaggio Marvel e basta. Organizzare una fase e organizzarla per anni, quindi organizzare un progetto anni prima, non ti dà il tempo di modificarlo in corsa quando effettivamente ti rendi conto che le cose non funzionano. Spesso e volentieri, in molti, mi scrivono sotto nei commenti che l'MCU sta seguendo i soldi ed è per questo che adesso sta avendo dei problemi. Vi posso dire che è un discorso che non ha senso. Tutte le aziende, ovviamente, seguono il denaro e in realtà queste scelte stanno facendo l'opposto. Quindi, in realtà, il seguire il denaro dovrebbe portare a dei veri e propri miglioramenti per l'MCU che effettivamente, se notate, ha fatto dei grandi cambiamenti. Soprattutto quest'anno, ne abbiamo parlato in un altro video, quest'anno infatti non escono mille titoli di personaggi che nessuno ha mai sentito nominare o che comunque sono dei sidekick o sono dei personaggi secondari che diventano protagonisti a caso di delle serie cortissime di sei episodi. No, escono pochissimi titoli MCU quest'anno. Uno, praticamente, come film, che è il film di Deadpool. Guarda caso, una bomba atomica di film che potrebbe cambiare il tutto. Quindi, questa cosa, questo errore, io credo che sia già stato analizzato ai piani alti della Disney e che già si siano arrivati da soli, logicamente. Mica glielo deve dire Hawk Comics come si gestisce un universo cinematografico. Assolutamente. Credo solo che adesso stiamo per tornare su dei binari più giusti, su dei binari corretti. Almeno, la pubblicazione recente, gli annunci recenti, mi fanno pensare a questo. E un titolo fra tutti mi fa pensare a questo discorso. Sto parlando dei Fantastici Quattro. Per quanto riguarda i Fantastici Quattro, secondo me, torniamo veramente a parlare di un film estremamente importante e che può comandare, diciamo così, la pubblicazione dei titoli MCU. Personaggi più importanti dei Fantastici Quattro, nella Marvel, soprattutto in quella dei live action, in questo momento qui, non ce ne sono. Certo, ci sarebbe Spider-Man, Doctor Strange, eccetera. Ma di inediti no. Ecco, ovviamente, quest'altro discorso che vi sto per fare, un po' scagiona la Marvel, perché se tu sei costretto, proprio per portare avanti il franchise, a far uscire dei titoli, la Marvel si è trovata a dover fare questa cosa in un momento cruciale, un momento in cui i grandi uomini sono tutti morti. O, se non sono morti, semplicemente stavano facendo un passo indietro. Quindi, inevitabilmente, questi anni sono stati duri per le MCU. Ora, però, devono risolvere il tutto. Con i Fantastici Quattro possono risolvere la situazione. Se i Fantastici Quattro lo dovesse fare schifo come film, allora, veramente, c'è da gettare, proprio da ritirare l'ancola, proprio andarsene, gettare la spugna totalmente, perché vuol dire che avranno fallito totalmente anche nella loro ripresa. Personaggi inediti per le MCU, che però hanno una certa caratura, e quindi sono degni di titoli stand-alone, e sono degni di essere portati avanti come personaggi di un franchise cinematografico, ci sono, e sono i mutanti. Da quello che abbiamo percepito, i mutanti dovrebbero diventare importanti da Secret Wars in poi. Proprio su questo canale, due giorni fa, è uscito un video in cui teorizziamo come effettivamente i mutanti potrebbero essere riportati nella storyline principale dell'MCU, e quindi del franchise. E io sono dell'idea che i mutanti sarà un argomento chiave per tutto questo. Quindi, personaggi non troppo importanti, titoli totalmente vuoti, e una fretta che li ha quasi uccisi. Questo per me è il vero problema dell'MCU. Quando si parla poi di cultura woke, ragazzi, credo che sia anche un termine un po' abusato, cioè nel momento in cui si parla di un personaggio come Echo, non si può incriminare il titolo come un titolo woke, perché il personaggio è una donna ed è nativa americana. Cioè, il personaggio dei fumetti è donna ed è nativa americana. Quindi, cosa dobbiamo fare? È ovvio che sia così e allora si parte dalle radici. Non dimentichiamoci che i fumetti nascono anche per rappresentare le persone. E ovviamente anche gli X-Men, io credo che loro siano proprio il gruppo che rappresenta questa cosa qui. Quindi, questi per me sono i problemi, ragazzi. I miei dieci minuti oggi ve li ho donati. Fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate. Quindi, secondo voi, quali sono stati i problemi dell'MCU e come e soprattutto se riusciranno a risolverli. Secondo me sì, io sono sempre fiducioso, lo sapete. Comunque, ragazzi, mi raccomando, fate i bravi e noi ci vediamo prestissimo, come sempre, con altri contenuti a tema MCU, Marvel e fumetti in generale. Ciao a tutti, ragazzi.